Se da un lato il lockdown dei mesi scorsi ha fatto sì che la natura selvaggia è tornata ad impossessarsi dei luoghi comunemente frequentati dall'uomo, dall'altro lato bisogna far sempre di più i conti con i danni causati dalla fauna selvaggia. L'allarme cinghiali questa volta arriva dall'area vestina, dove agricoltori e allevatori sono ormai allo stremo delle forze. Campi, anche delimitati da recinti elettrosaldati, distrutti dalle scorribande dei branchi, mesi di lavoro persi, aziende che devono ricominciare da capo e senza garanzie, anzi con la paura di vedere vanificato ancora una volta il lavoro svolto. L'evidenza è davanti agli occhi di tutti. Noi con questo servizio vogliamo sollecitare di nuovo il nostro assessore, che è pure vice governatore della regione Abruzzo, affinché ci dia una mano. Ho avuto modo di conoscere, di parlarci, ci ha mai dato la sua disponibilità, però purtroppo a tutt'oggi i risultati sono questi. Carissimo assessore, la imploro, lei ci deve autorizzare i cacciatori a fare la girata con i cani, altrimenti i nostri raccolti saranno distrutti. Siamo al 23 di luglio e questi sono i risultati. I nostri sforzi zero, i nostri guadagni meno di zero. Si fa scarica barile, ora faccio parlare con quello, ora faccio parlare con quell'altro, purtroppo per leggi anti-covid non si può. Dice che si fa assembramento, ma come si fa a fare assembramento in mezzo a un campo di ettari e ettari con due o tre cacciatori e due cani che tirano fuori questi cinghiali? Ma l'assembramento non si fa nel bar, non si fa al mare, si fa un assembramento a un pezzo di mais di 2.000, 3.000 metri quadri, tre cacciatori. Ma stiamo scherzando? Questo è l'ennesima presa in giro, perché anche l'hanno già buttato questi lupi, perché sono i lupi che devono contrastare questi cinghiali. Invece, secondo quanto stiamo vedendo, è un pochettino l'inverso, perché noi allevatori sia di pecore, di vacche e compagni abelli ci dobbiamo difendere. Nel senso che qua si sono mangiati anche i vitellini dentro le stalle. Noi ci siamo fatti pure questi cani, questi l'arma bianca, i pastori ebruzzesi e compagni abelli. Però questi lupi si riproducono in modo stratosferico. Stanno niente, i cani hanno paura. Noi non ci possiamo fare dei branchi di cane per difenderci dai lupi. Secondo Coldiretti, il numero dei cinghiali è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni, salendo a 2 milioni in Italia e oltre 100 mila in Abruzzo, con particolare riferimento alle zone interne e montane. In Abruzzo la concentrazione media stimata è di un esemplare per ogni sette abitanti, numero che peggiora nelle zone più interne dove la fauna selvatica scorrazza.